Questo è un tema sul quale stiamo ovviamente, o ci interroghiamo con una certa ricorrenza, soprattutto adesso che abbiamo compiuto, stiamo compiendo il centenario, il senso profondo della presenza di una università cattolica è quella di rendere presente la voce di una riflessione culturalmente e valorialmente connotata dentro il contesto delle attività di formazione e di ricerca scientifica. Su questo c'è una tradizione solidissima che risale a molto prima della fondazione della cattolica, avvenuta in tempi, io non mi stanco di ricordarlo, abbastanza complicati, basta pensare che non c'era il concordato e che la posizione scientifica e culturale del mondo cattolico non era certamente centrale. La stessa accoglienza che ha avuto nella città di Milano è stata peculiare, le prime due università milanesi, si stava ricordando, sono state le università volute dalla borghesia manifatturiere e dalla borghesia commerciale. Ci si è aggiunta ed è stata accolta l'università cattolica, quasi coeva sostanzialmente la statale. Allora in questo complesso in fondo la coralità della proposta formativa e di ricerca che le università milanesi sono state capaci di esprimere è originaria, in fondo io non ho sempre percepito anche andando a riguardare la storia più una ricchezza di proposte e diversificazione di proposte piuttosto che una alternatività o addirittura competizione, soprattutto negli ambiti nei quali c'erano situazioni di contesti di sovrapposizione. La cattolica poi ha anche la peculiarità in realtà di avere una vocazione nazionale più spiccata delle consorelle milanesi, abbiamo sedi in diversi luoghi del territorio, abbiamo per il contesto appunto sociale, culturale e valoriale al quale ci riferiamo una capacità attrattiva dal resto del territorio nazionale che non è legata soltanto immediatamente all'interesse dello studente ad una certa proposta formativa o, ricordiamoci perché i nostri ottimi risultati in termini di reclutamento, e parlo di tutti noi, certamente dipendono dalla qualità dell'offerta degli Atenei ma dipendono anche dal fatto che stiamo a Milano che è quindi una città alla quale credo diamo non poco ma dalla quale altrettanto riceviamo in termini di opportunità. E questa capacità mi pare di operare nelle diverse caratteristiche e impostazioni che poi si riflettono poco anche nei metodi di approccio con sia la ricerca che la didattica, c'è al tempo stesso appunto una, e si è rivelata nella fase della pandemia, una capacità di funzionare in modo coordinato e armonico. Io spero che non esca mai fuori fuori della cerchia di rettori il contenuto della chat perché ci sono anche forse dei giudizi penalmente rilevanti in qualche momento quando attendevamo spasmodicamente qualche indicazione che ci siamo date da soli perché la decisione che è una già dei rettori lombardi, non solo milanesi, la decisione di chiudere nella famosa, le università nel famoso settimana, quello del fine settimana della fuga, la maturammo prima noi delle autorità e quasi la comunicamo rappresentando le autorità che si trovavano a Roma, che c'erano in alcune delle città lombarde delle situazioni estremamente critiche. Questo è anche un esempio di come le istituzioni possano riuscire in tempi estremi a trovare delle soluzioni anche operative. Però se posso promettermi quello che è stato detto fino adesso cercando, mi sembra che si ponga con grande forza ma anche con grande problematicità il tema della conoscenza. Periodicamente noi andiamo a slogan, lo sappiamo tutti, ci sono parole, quelli che studiano la ricorrenza dei termini nella comunicazione ce la mettono in evidenza con grande facilità. è certamente conoscenza, è una parola molto usata, abbinata a società, economia della conoscenza, diffusione della conoscenza e quasi normalmente presentata come un termine assolutamente e senza riserve positivo. In sé lo è ovviamente ma non è un termine privo di problematicità, non è una categoria non problematica. Intanto potremmo dire che una buona parte dei problemi che vanno davanti adesso è generato proprio dall'incremento della conoscenza e della capacità operativa complessiva del genere umano che ha creato una società più complicata, più interlacciata, globale, con delle dotate orette su capacità tecnologiche, quindi di impatto sulla natura molto più intense di quelle dei secoli passati, invece di essere dominato, vittima, soggetto che quasi si difende dalle azioni della natura come è stato per migliaia di anni, adesso l'uomo ha una grande capacità di modificazione della realtà nella quale si trova immerso, il problema è che questa conoscenza poi da bravo attruendista stregone ogni tanto gli sfugge di mano e ha innescato un paio di processi veramente terribili. Uno l'ha detto la professoressa, quindi il rischio che la contaminazione o la degenerazione degli habitat provochi dei salti di specie che credo siano sempre successi ma con una frequenza e una facilità diversa, ma c'è un altro fenomeno che per stare alla risposta iniziale è molto messo messo bene in evidenza nel magistero di Papa Francesco e non solo nel lato sì ma anche nelle encicliche successive, cioè quello che abbiamo messo in piedi un meccanismo di aggressione dell'ambiente che ha innescato una retroazione che cammina da sola, cioè per anni noi abbiamo sempre detto, in fondo noi provochiamo inquinamento, inquinamento cos'è? Una modificazione materiale della realtà, delle matrici ambientali, ho buttato lì un fusto con dentro qualche cosa della sostanza, ho serotto il serbatoio di una nave ed è uscito, ed è uscita qualche sostanza. Un danno tecnologico che la tecnologia normalmente mitiga o riesce addirittura a riparare. Le tecnologie per ripulire l'ambiente, non dico riportarlo all'arcadia, ma quasi ce le abbiamo. Le tecnologie per ridurre gli impatti ci sono, a un certo punto i tedeschi hanno detto abbiamo le foreste devastate dalle piogge acide, abbiamo messo i catalizzatori, mi consta che le piogge acide non sono più un problema così intenso come prima. Però dice, ha dato sì, attenzione, la soluzione non è più solo nella tecnologia, perché ormai si è innescato un meccanismo, che è quello dei cambiamenti climatici, rispetto al quale non c'è una controtecnologia, o almeno non ce la siamo ancora trovata, o non di così immediato e sicuro impatto. Non basta più andare a ritirare fuori il rifiuto che ho buttato in giro o cessare un certo tipo di emissione, bisogna fare qualcos'altro. E perché esiste questo tipo di aggressione alla natura? Perché c'è un certo tipo di assetto dei rapporti socio-economici, un certo tipo di ricerca dell'utile, del profitto. Attenzione, non mi pare che la risposta possa essere la decrescita. Se vogliamo stare a tutti meglio, bisogna che l'economia cresca, che aumentino i prodotti. Ricordiamoci, abbiamo ricordato il piano Marshall, in questo paese la gente soffriva endemicamente la fame nel dopoguerra. Oggi, certo che ci sono ancora terribili le code davanti all'opera San Francesco, ma non ci sono regioni intere del paese in cui le masse contadine da febbraio ad aprile non avevano più da mangiare. Quello che succedeva un poco di anni fa. Allora, dobbiamo avere crescita, ma è chiaro, deve essere una crescita che non genera incremento di disuguaglianza. Questo pone alcuni problemi che tocco tra un attimo e poi ovviamente restituisco la parola. Quindi è il terzo passaggio che ci porta in caso di università. Come si può pensare che il sistema dei rapporti socio-economici possa risanarsi o correggersi? La soluzione non è solo la conoscenza intesa come capacità, come skillness, come capacità tecnica, come possesso di una tecnologia. Se accettiamo l'idea che la tecnologia è da sola, non ci risolve il problema, ce ne può risolvere alcuni, ma non quello di fondo. Beh, diventa una conoscenza diffusa, cioè diventa educazione. Allora, la società della conoscenza è soprattutto una società dell'apprendimento, perché va protratto nel tempo, ma è di più, deve essere una società dell'educazione. Allora le università hanno solo un grande compito morale, che non è solo quello di generare conoscenza nuova, la ricerca, che è importantissimo. Ricordiamoci peraltro che certe nuove conoscenze non si creano più nelle università. Tutta la questione dei dati, mi sembra che, non sono un esperto di questo, ma ho l'impressione che le università in buona parte stanno dietro. Sono gli imprenditori dei dati che trovano il modo per primi, perché hanno un'evidente sollecitazione egoistica, il modo di gestirli, di organizzare. E noi a un certo punto scopriamo che c'è gente che raccoglie, che tratta grandissime masse, che ha elaborato strumenti per farlo. E così succede per tanti processi dell'intelligenza artificiale, anche sui farmaceutici, non tanto sulla ricerca di base, ma è evidente che l'industria ha un ruolo importante. Allora, l'università non è l'unico luogo dove si crea conoscenza nuova, ma è il luogo per eccellenza dove si trasmette la conoscenza, dove si creano nuovi conoscenti, nuovi protagonisti della conoscenza. E questo è assolutamente fondamentale nel momento in cui si pensa che la conoscenza non è assiologicamente neutra, ma sempre porta in sé il quesito perché imparo qualcosa e che cosa me ne faccio di quello che imparo, a che scopo. Certo, posso decidere che imparo queste cose per avere delle conoscenze distintive e poi diventare ricco. Il primo discorsetto che faccio ai miei studenti alla prima lezione del tuo privato è ma perché dove dovete studiare diritto? Che cosa cerchiamo di insegnarvi? Cosa c'è scritto nelle leggi? Ovviamente no. Oggi ci sono i database e quindi le trovi subito. Dovremmo insegnarvi qualcosa che qualcun altro non sa fare, se deve diventare il vostro mestiere. Altrimenti io non pago qualcuno che faccia qualcosa che io so già fare. Io pago qualcuno se fa qualcosa che io non so fare o se fa qualcosa che io non ho voglia di fare. Un lavoro che a me non piace o che non sono disposto a fare. Allora, se tu fai il medico, camperai del tuo lavoro che ha la vendita delle conoscenze sul mercato, una parte nobile, vuol dire è il sudore della fronte, è sapere scambiare la propria attività per trarne il sostentamento. Allora, io pago il medico perché lui sa fare una cosa che io non so fare, curare, sa dirmi quale medicina devo prendere. Pago il giurista o pago l'economista perché mi sa fare alcune cose. Però devo anche capire a che cosa serve la conoscenza che sto acquisendo. Questo è un compito diffuso. Mi avvicino alla conclusione. Allora, noi abbiamo questo rapporto complicato con la conoscenza che va in rapporto con le istituzioni ma anche col popolo. Il rapporto conoscenza-istituzioni l'abbiamo visto, per prendere l'esempio più recente, drammaticamente durante la pandemia. Facciamo una società platonica, degli scienziati ci dicono loro quello che devono fare. Tra l'altro, noi abbiamo visto la scienza in crisi in questa fase, ma legittimamente in crisi. Perché abbiamo visto la scienza nel suo farsi. Noi che non siamo scienziati non conosciamo la scienza, conosciamo la tecnologia. Noi conosciamo quello che arriva col device, con l'aggeggio e dice, un elegante signore con il suo maglione nero, che dice, guardate, questo è il prossimo telefono che avrete tutti in tasca per i prossimi vent'anni e nel quale sarà chiusa la vostra vita. E tutti, oh sorpresi. Oppure ci tira fuori una cosa un po' più grossa, che la professoressa è lì in mano, che è un telefono più grande e tutti si chiedono, che si chiama iPad, che cos'è sta roba? Non telefona, non ci parlo, un po' troppo piccolo per farci i videogiochi. E poi c'è stato un periodo in cui l'abbiamo usato molto diffusamente e tuttora continuiamo a usarlo. Noi vediamo la tecnologia, ma la scienza e le leggi fisiche che ci stanno sotto, mica le conosciamo e non le capiamo. Qui invece noi abbiamo visto la scienza prima che arrivasse col suo prodotto trionfante, quando avevamo bisogno che ci risolvesse il problema e l'abbiamo vista procedere per ipotesi e falsificazioni, il solito sistema. Ma quando le ipotesi si sono rivelate sbagliate, quando hanno detto se c'è uno che non respira lo porto in ospedale e gli pompo dell'aria nel polmone, che è la roba più normale che un medico con un'insufficienza respiratoria fa. Dopo si è capito che quello spargeva in giro ancora peggio. Ma non si può fare una colpa a chi ha sbagliato in quella fase. La scienza ha fatto qualcosa di grandioso, perché ha tirato fuori un vaccino in quanto neanche un anno. Però altrettanto si è trovato in un ruolo molto complesso. Quindi il rapporto tra istituzioni e conoscenza in generale è difficile. Non troppo ascoltate. L'Accademia aveva previsto le crisi finanziarie molto prima di Lehman Brothers. Ci sono tanti convegni. Un bel po' prima di Lehman Brothers avevano detto cosa sarebbe capitato. Poi c'è il problema del rapporto conoscenza-popolazione. È un rapporto delicatissimo. E qui abbiamo visto questa cortocircuitazione. Il depositario, se stiamo sempre all'esempio, della conoscenza o della conoscenza scientifica parla all'istituzione, ai decisori politici, ma parla anche all'opinione pubblica. Che condiziona i primi? E l'opinione pubblica ci capisce quello che ci capisce. Allora non dico che vada educata come un soggetto infantile, ma certamente è molto più emotiva e molto meno attrezzata degli strumenti per elaborare anche dei concetti abbastanza complessi. E qui arrivo al punto finale. Il valore politico della conoscenza. Noi ci poniamo sempre al problema di una società con maggiore conoscenza perché questo costruisce capitale umano in termini di asset aziendale, capacità operativa, che certamente ci vuole. Ma c'è anche un capitale umano sociale che è fondamentale, che non è legato al modo in cui io posso essere utile alla mia azienda. Io non so niente, so già poco di diritto, del resto non so proprio nulla. Però almeno essendo una persona che ha compiuto un corso di studi quasi regolare, posso avere una curiosità e una disponibilità all'apprendimento che mi porta anche ad avere un approccio più dialogante e capace di comprendere possibilità e limiti delle conoscenze scientifiche. Sempre se stiamo per stare comodi al tema delle vicende recenti potremmo farne un'altra quantità. È chiaro che io non so niente di biologia e di virologia, ma essendo uno che ha studiato, come tutti qui dentro, so cosa vuol dire cercare di imparare una cosa nuova e rispettare quelli che la conoscono. Non so niente di economia, ma mi rendo conto che abbiamo una situazione economica davanti totalmente inedita. Perché io credo che una situazione nella quale il denaro non è più una risorsa scarsa e quasi te lo tirano dietro è un po' difficile, basta trovarsi nel punto giusto per raccogliere il passaggio, ma è un po' difficile gestire certi fenomeni e certi processi. Allora, se una persona, se è diffuso un tasso di cultura, di formazione, di educazione, torno all'inizio, nella società. La società è una società capace di rispettare le conoscenze specialistiche, di superare quel periodo nel quale l'ignoranza era elevata a valore, come sintomo o simbolo di libertà da condizionamenti, rispetto e asservimenti alle vecchie strutture di potere. Cioè l'idea sembrava fosse quella per essere liberi mentalmente, non condizionati, non tributari di poteri forti o deboli, vergini nel proprio approccio, beh, bisogna essere delle tabule rase settecentesche, cioè degli ignoranti. Non avere percorsi pregressi, non avere un passato. Questo è assolutamente sbagliato. Quello che conta, però, è che gli agenti di formazione, torniamo a dirgli, cioè di università, siano capaci di formare, di educare delle persone con un passato culturale nobile e solido. Perché questo rende più colta nel suo complesso l'intera società, e quindi capace di prendere scelte, di rispettare le indicazioni e le competenze altrui, anche di avere reazioni meno emotive o isteriche nei momenti di stress che tutti abbiamo passato. Perché? Perché questo si può fare se si è persone culturalmente evoluti. Questo credo che sia un compito fondamentale di tutta la struttura della formazione, quella che comincia dalla scuola e dovrebbe culminare nella società. Grazie.